Ciao a tutti ragazzi siamo qui con LL09 e oggi faremo un altro video, dico un altro video perché abbiamo fatto 30 video di prova Un altro video di Fortnite, oggi giocheremo con Francesco, che adesso Francesco deve andare in zona con me Prendiamo le zipline si chiama Andrea letteralmente andrea dobbiamo andare in zona venite qua che c'è del splash è vero vieni almeno tu qua a farti a splash io tra cittadini e sidone e se volete pure un 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 ecco a me ci sono guarda anni in due potrà fare un medici che mentre mi aggancio oggi si possono finalmente usare il medico nella zip line non guadagno colpi davanti da me ho detto dobbiamo andare in zona si mai ha detto dobbiamo andare in zip line morto 1 a ben morto si qua stecchino che aveva meno di 27 di vita bella che culo che stanno nella fine veramente l'acqua bella bella vabbè facciamo sta parte bassi che è la che abbiamo fatto ho preso e ragazzi a me sta succedendo cose strane 18 kill e il dono questo un colpo perché io ho saltato poi ho preso da luna le gomme che sono soccostano ma non è che un tempo era quello con meno vita di tutti però invece di voi io avevo uno scendone e uno scendito e una band 10 bene che ancora ho e un medico si vuole questo potete venire da me che ci sono decisamente nel site grosso e voglio entromettermi aspetta che adesso mi faccio il confine arrivo ma la terra uno simone simone scacchi un bel nome mi ha detto che molto credone a un credone ho ucciso un credone bello ci sta venendo un elicottero aiuto andrea scappa vengo vengo io a salvarti ma non è da quando mi riesci a salvare dal 2007 il giorno nella sua mappa devi ritare un cazzo di muro bella è caduto è morto la caduta è morto la caduta non mi fotte di ruta guarda già volevo succhiarmi il lutto no no perché è stato tanto che me ne frega a me è la mia che bel lutto il porco cane che lutto è stato da me che c'aveva eh poppa mia dammi gli scendini un po dammi un po gli scendini che erano miei tutto il tempo dammene cinque un po dammene cinque un po cinque cinque e così sono quattro cinque ho i miei non è maturo però lascio come gli ho fatto cosa ti ho fatto il mio è diventato il mio è pigliato faccia viola bella ok ah c'ho un medico che per chi le vuole c'ho un medico oh che bello cacciaviola tu vuoi le bendevo eh tu ho vinto da lì non ti fare le bendevo no 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 non te le fare non te le fare non te le fare non te le fare di te scusa vediamo portare del fuoco fa cosa bellissima un po così l'anime di una casa è la casa più così l'anime del mondo e vabbè però sempre con costi cosse di del l'anime di lion anche una rosti coglione ma che ha detto che le condivisione perché ciò vuoi ma io vi dico appunti che con questo perché non è io voglio portare me di che su vuole già tre allora lascio io ne ho già sei io ho già sempre diverso io potrebbe no vabbè io jump ne metto una dove qui io ho aperto proprio il deltaplano sono andato dritto per dritto senza manco aprire il deltaplano perché non ce l'ho voglio se qua c'erano player e mi sparavano alla gianta quanto è bello il mio deltaplano vediamo ma ce l'hanno tutti ormai ma però è bellissimo io che intanto mi alzo in piedi e faccio muovere la sedia questo a chi servono i cildini io ho la fornitura io ho sei mi servirebbe uno scidone se li vanno bene i due cildini merighiti in più se me lo volete dare mi farebbe comodo ok adesso ok intanto vado in zonita ok noi siamo volete scommettere adesso voi lasciate subito un mi piace entro 20 19 18 17 16 15 18 13 12 11 19 18 7 6 4 2 1 lasciate like perché bene possiamo vincere una partita questa è partita vinta e potete lasciare voi forza perché sono scarso bella mi voglio 72 400 vbux sono 400 vbux per favore venite oh no aspetta vieni qua Emma 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 invece di fare materiali che tu non li usi mai cosa sai un po' lì sopra che ci sta la moneta xfiblu qui sopra tipo si la mia la mia la mia la mia 205 riping mio padre mi sta succando la connessione vai come cazzo faccio a giocare con un padre che c'è un pc di merda che mi succhia tutta la connessione di un bonino e dai sono un grande che mi sentino in testa un lager lager che ci stavano fucilando dove sono i fucilini potremmo dirgli fucilini no sono dei scagnozi con un altro con un player però che se non c'è un giro da me voto a ultimo secondo la pratica che come ho ucciso il credo l'indice vado a prendere un'arma di quelle d'oro si si no ho fatto il teo aspetta l'idea chi sono una mia e una di fra quindi fra quale volta lo scarletac lo scarleto bravo prego eh prego grazie si sa vai nella dietro anche quindi io c'ho le sezze veloce faccio il capo lo vuoi tu lo scarleto allora oh dino cazzo stanno io scala vieni tieni voi cazzo grazie quante chi la mette io cinque io quattro 18 oh no 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 io devo pusciare con un pazzo voglio fare le venti bombe voglio fare 15 kill stupida invece di player dove cazzo siete voglio fare 15 kill altre 15 kill faccio le venti bombe quando esistono gli spari sono ancora dei predoni che sparano un player predoni non uccidete quel povero player per favore voglio villare eh sì vabbè quanto che c'hai voglio dai quando io che c'hai 4 anch'io e poi voglio fare c'erre venti bombe volevo vabbè mi stanno fredendo mi stanno faticoni io sto laggando troppo di ozono mi lagga mi lagga mi lagga come un fuoco mi lagga come un maiale mi lagga 600 biping 600 veni da me veni da me arrivo terra 1 a terra 2 dai non erano 2 no no 3 in realtà perché uno era da dietro mi ha un gatto fermo 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 levati levati dagli levati dagli vieni qua sotto vieni qua sotto morto uno ok fermo fermo uno l'hanno restato cavolo io pure sta restando io pure sta restando dai ss io vi copro dopo di l'ancio 2 scelgine fateli fatti non sai dove stanno dove stavo si interno ti posso hanno attrice ripresi io sto laggando troppo per fare il build battle grazie quando i lanciaranti vengono con te per favore invece mi penserà che restarci ma come queste cose qualcuno mi ha una piatta aiuto cazzo ma ci siete il saccazzo di partita cazzo mi ha la parola da merda ancora dove stanno sono da me e dove stai tu in 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 mi serve un medikit no no non possiamo sono quasi morto è diverso io andrei io sto dove stavi tu eh non lo so io mi lo ho arrangato solo 5 4 v 1 no 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 25 bianco si è avvicinato bella full team full team full team full team full team calma andrà full team full team full team full team full team andrà calma benna chi vuole lo scarro io avevo visto un vampo fucile e lo prendo io eh scarro è per il vampo fucile scarro è per il vampo fucile vabbè allora me lo tengo allora me lo tengo io vieni che qui vieni vieni che qui ah no non me ne prego un cazzo vieni che mi hai detto tu mi puoi ridare lo scarro a me non me ne ho detto qua ah non lo vuoi ok si per cui voglio dallo guanaglia perché allora vampo fucile vampo fucile vampo fucile andrea scarro no a me che non riesco a fare le venti bombe cazzo cazzarola eh no che tu fatti il medico non ce l'ho qualcuno ha tirato una ero io oh mi sono fatto un full team uno v4 voce io vi sto dicendo aiuto perché c'è posso accarezzare il polletto posso accarezzare il polletto stai chiesto ho accarezzare il polletto fa la dub ha fatto la dub ha fatto la dub quando l'ho accarezzato chi lui l'ho accarezzato andiamo in zona qualcuno ha colpi razzi no no mi servono anch'io al lancio razzi è diverso ok io per te c'è una propria andiamo in zona qualcuno non ha parlato male sto sei eh me ne fai che se ce li ho regalare scusi scusi cioè ci avete anche il gianto per dopo player 9 come io le faccio uno scus vado a prendere la cassa e arrivo posso quella posso quella io guardo ogni sicurezza e spuglio quella cosa lì si dammi 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 aio 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 no fuck 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 mi ha detto che devo aver capito andrea tu cioè andrea cioè andrea francesco dai 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 3 1 ehm 105 1 morti 2 lo possiamo restare francesco o no no vabbè tato adesso 10 like ciao no io ne voglio di più quante chi l'avrò fatto ciao ragazzi